Diretta da Country Live a Web TV, sono qui alla festa country di ospitale di Bondeno di Ferrara e sono con il grande Lino che già la bandana è tutto un programma. Lino com'è la bandana? Rossa e indiana. E tu balli country? No. Assolutamente? No. Però questa festa qua, che c'è questa musica meravigliosa? La adoro perché è bella musica, la gente si diverte e siamo sempre in compagnia, per noi è sempre una festa. Bello. Lino, io vedo che sei qui che stai proteggendo la porchetta, com'è sta cosa? Eh, ci vuole, guardia del corpo della porchetta, non deve mancare. L'hai scelto tu questo oneroso lavoro, vero? No, purtroppo manca un nostro compagno di feste perché ha avuto alcuni problemi e quindi lo sto sostituendo e molto volentieri. Perché se no tu eri quello destinato ai cappellacci? No, sì, una mano in cucina come i cappellacci, come quello che capita. Che peccato, eh. Tu cosa ci consigli invece per mangiare? Tutto. Tutto è fatica, Lino. Tutto è fatica. Tutto è fatica, Lino. No, no. Salamina, cappellacci, maccheroni, gli altri maccheroni, la porchetta, la grigliata, tutto. Avanti, ragazzi vi tocca venire. Polenta, tutto quello che c'è, compresi i dolci. Ragazzi vi tocca venire perché io non ce la faccio da sola, da Country Live a Web TV. Giulia, smettiamo qui a Bondeno, ospitale di Bondeno. Grazie, grazie Lino. Prego, prego. Tutti voi, grazie di tutto. Grazie.